Ciao ragazzi bentornati su Blenderista Anonimo Oggi come promesso vi insegnerò a fare delle arance con questo risultato qui Come al solito partiamo da una nuova scena di Blender Quindi abbiamo Blender, come al solito ci troviamo il cubo, la telecamera e una luce Cancelliamo tutto e creiamo una sfera Quindi Shift A, Sphere e abbiamo qui la nostra sfera Adesso prima di cliccare qualsiasi altra cosa andiamo qui sotto in basso a sinistra E come raggio, questa ha un raggio di un metro quindi è larga due metri Gli diamo un raggio di 0,04 metri quindi 4 cm Perché dalle osservazioni che ho fatto le arance sono intorno agli 8 cm di grandezza Quindi hanno un raggio di 4 cm Essendo questi metri sono 0,04 metri Ok quindi abbiamo la nostra sfera grande più o meno quanto un'arancia E andiamo in Edit Mode E cominciamo a dargli un po' l'aspetto di un'arancia Per prima cosa io direi di andare a rimediare in cucina un'arancia e mettercela davanti Perché avere una reference, diciamo un riferimento su cui basarci Nella vita reale è sempre meglio che fare le cose a occhio Quindi se avete un'arancia a portata di mano, bene Se non ce l'avete andate su internet e scrivete arancia Per esempio prendiamo questa immagine e dobbiamo dargli questo effetto qui Queste venature qui sopra Per fare ciò direi di prendere questo vertice qua sopra Attivare il Proportional Editing Quindi schiacciando O o schiacciando questo simbolo qui sopra E poi fare GZ Rimpicciolire con la rotella del mouse il nostro raggio di influenza E portare giù questo vertice Ok Ora dobbiamo dargli l'effetto che vi dicevo prima Ovvero queste venature qua Per farlo andiamo in modalità selezione lati Questa qui sopra E selezioniamo alcuni lati In questo caso prendiamo questi Non so andiamo un po' a sentimento Quindi prendiamo questi Poi prendo questi Poi prendo questi qua Un po' così Un po' a casaccio Così L'importante è che li prendiamo a partire da questo punto qua Quindi non prendiamo quelli che stanno qui dentro Ma quelli che stanno fuori da questo cerchio Quindi così Poi Ne prendiamo un altro Ops Ne prendiamo un altro qua Tenendo premuto shift Noi clicchiamo E continuiamo a selezionare Così E così E poi facciamo G Z Rimpiccioliamo Qua Il nostro Raggio di influenza E Ci fermiamo Qua Adesso ovviamente è tutta bozzosa Quindi se facciamo tasto destro Shade smooth Diventa più liscia Ma ancora meglio Se andiamo su La sezione modifier Facciamo add modifier E Subdivision surface Oppure Se vogliamo risparmiarci Questo passaggio Di andare sui modifier Facciamo Control 2 E lui ci creerà automaticamente Il modifier Con il numero di suddivisioni Messo a 2 Quindi adesso È tutto Più liscio L'altra cosa che dobbiamo fare adesso È il picciolo Quindi per farlo Facciamo Shift A Creiamo un cilindro Che adesso è enorme Quindi con S Lo rimpiccioliamo Ancora 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 G Z Ce lo portiamo su S Lo rimpiccioliamo S S Z Ok E andiamo in edit mode Con 3 Facciamo selezione facce Schiacciando il tasto 3 Selezioniamo la faccia qui sopra Facciamo X Faces E Shift Z Vediamo in modalità raggi X Selezioniamo la faccia qui sotto X Faces Quindi abbiamo tolto la Shift Z Abbiamo tolto la faccia Sopra e sotto E Modalità lati Schiacciando il tasto 2 Oppure Cliccando qui sopra Facciamo Alt Click E selezioniamo I lati qua sotto G Z Li portiamo su Togliamo la modalità Proportional editing Qua sopra E poi facciamo Estrudi Quindi E Z Ce lo portiamo giù S Lo ingrandiamo Così da fare qualcosa di questo tipo Poi facciamo Alt Click E selezioniamo I lati qua sopra G Z Li portiamo un po' più su Estrudiamo E S Li rimpiccioliamo così E poi facciamo Spazio E cerchiamo Fill Grid Eccolo qua Grid Fill E lui ci Iude Il tappo qua sopra Se vedete che vi fa questa cosa Come sta facendo a me Come se Si sta tagliando L'oggetto Dobbiamo fare N Andiamo nella sezione View E c'è questo numero Clip Start Che dobbiamo rimpicciolirlo Quindi facciamo Shift Trasciniamo Verso sinistra Ecco qua Lo mettiamo 001 Quindi adesso Non ci da più Quel problema Soltanto quando andiamo Molto molto vicini Se volete rimpicciolirlo Ancora di più Potete farlo Ma per me 001 Va più che bene Ora Con Control R Aggiungiamo altri lati Con la rotella Li aggiungiamo Direi di metterne per ora Uno Ok Andiamo in modalità Selezione vertici Oppure schiacciando uno Shift Z Selezioniamo i vertici Qui sopra E gli diamo un po' di variazione Quindi facciamo G R Shift Z E lo abbiamo Inclinato Se poi facciamo Control 2 Gli aggiungiamo Delle divisioni Poi Andiamo in edit mode Gli andiamo a dare Un po' di lati Di supporto Quindi Control R Qui aggiungiamo Control R Ne aggiungiamo Un altro qua Control R Ne aggiungiamo Un altro qui sotto Tasso destro Shade smooth E Ecco qua Picciolo Perfetto Volendo Possiamo farlo Un po' più grande Facciamo S Così G Z Lo portiamo Un po' più su Ecco qua E questa è la modellazione Della nostra arancia Semplicemente Ora Ovviamente Sono andato Molto veloce Su questa parte Perché Sono tutte cose Di modellazione Che abbiamo Già fatto Che dovreste Ricordarvi E Adesso Inizierei la parte Divertente Ovvero I materiali Di questa arancia Per fare i materiali Di questa arancia Innanzitutto Andiamo su Shading Se l'arancia È troppo piccola Invece di Zoomare Potete fare La virgola Del tastierino Numerico E vi metterà L'arancia Al centro Della Della vostra Inquadratura E per fare il materiale Non useremo Le texture Come ve l'ho spiegato L'altra volta Ma useremo Delle texture Procedurali Che vuol dire Procedurale? Procedurale vuol dire Generato dal computer In maniera Diciamo Matematica Ci sono delle funzioni Matematiche Che creano Delle texture Per noi Adesso vi spiegherò Vi farò degli esempi Per farvi capire Come funzionano E per farlo Userò Un piano Così ci capiamo Meglio Allora Adesso questo piano È enorme Quindi lo rimpiccioliamo Faccio G Y E me lo porto Qua di lato Voi potete anche Non farla questa cosa L'importante è che State molto attenti A quello che sto facendo Così che capiate Per dopo Creo Un nuovo materiale Schiacciando New E lo chiamo Test Texture Ok Adesso abbiamo Un materiale Bianco E per farvi vedere Quello che intendo Farò Shift A Qui nei materiali Andrò su texture E qui abbiamo Tutta una lista Di texture Che possiamo usare Abbiamo image texture Ops Abbiamo image texture Che l'abbiamo usato Nel video precedente Ma qui abbiamo Altre texture Se noi Se noi prendiamo Noise texture Vediamo Questa cosa qui Dove ci sono Diversi parametri Che si possono Cambiare Non c'è un input Dove mettere Un'immagine Che abbiamo Dal computer Perché questa È una texture Procedurale Se io applico Questa texture Procedurale Qui al Base color Vedete Che c'è qualcosa Sul nostro piano Ora Per capirci meglio Faccio Ctrl Shift Click Sul noise texture Così che La collega Direttamente Al materiale Questa cosa Potete farla Vi ricordo Se avete Nelle preferenze Addon L'addon Che si chiama Node Wrangler E Questa Noise texture Ci crea Un pattern Che sembrano Un po' Delle nuvole Se noi Andiamo ad aumentare Questo parametro Che si chiama Scale Aumentiamo La grandezza Delle nuvole Quindi È un po' Il contrario Di cosa Pensereste Nel senso Se noi aumentiamo La grandezza Scale Significa grandezza Le nuvole Diventano più piccole Guardate Vedete Se noi Rimpiccioliamo Scale Le nuvole Diventano più grandi In realtà Questo numero Potete pensarlo Come se stessi Ingrandendo Rimpicciolando Le UV Del nostro rettangolo Più grande L'UV Più piccola Risulterà la texture Più piccola L'UV Più grande Risulterà la texture Oppure Semplicemente Pensate che Questo numero È il contrario Di quello che Vi aspettereste Che fa Quindi Noi abbiamo Questi parametri Qua per esempio Scala Poi abbiamo Il livello di dettaglio Aspettate che vi aiuto Creando Shift A Converter Color Ramp Aumentiamo il contrasto Di questa texture Così la vediamo meglio Aumentiamo i neri Aumentiamo i bianchi Ecco qua Se aumento il dettaglio O lo diminuisco Vedete Così è poco dettagliato Più lo aumento Più diventa rifinita Questa cosa E poi ci sono altri parametri Come roughness Ovvero Quanto viene puntinata La nostra texture È un altro È quasi un altro Livello di dettaglio E poi la distorsione Che ci Distorce La texture Un po' come se Fosse una superficie oleosa Allora Questa è solo una Delle texture procedurali Che abbiamo Infatti Se io faccio Shift A Vado su texture Ne abbiamo altre Come per esempio Lavoro noi Prendiamo distance Lo mettiamo qua Lavoro noi Un altro tipo di texture Anche qui C'è il parametro scale Parametro random Vedete Se metto random a 0 È Una lista Una griglia di puntini Se lo metto A 1 Sono tutti messi In posizione random E così via Ce ne sono molte altre Ma adesso non stiamo qui Ad elencarle tutte Vi consiglio Di cercare Di guardarne un pochino Così per farvi un'idea Di cosa fanno Non abbiate paura Di smanettare Con questi parametri Perché vi fanno capire Un minimo Che cosa fanno E detto ciò Una volta che abbiamo capito Di cosa stiamo parlando Direi di Cancellare questo piano E tornare Al nostro Arancia O alla nostra arancia Come preferite Innanzitutto Vi diamo un nuovo materiale Ah Una cosa Che non ho fatto finora Che è Molto male È che dobbiamo dare il nome Ai nostri oggetti Perché se no Ce li perdiamo Quindi Selezioniamo l'arancia E la chiamiamo Con doppio clic Arancia Selezioniamo il picciolo Doppio clic Ops Doppio clic sul picciolo No Picciolo E poi Creiamo Una collection Cioè Un gruppo In cui Questi due elementi Vivono insieme Quindi li selezioniamo Entrambi Facciamo M New collection E lo chiamiamo Arancia Ecco qua Così ce l'abbiamo Tutto In un bel gruppetto Ora Di nuovo Selezioniamo La nostra arancia Facciamo New E creiamo un materiale Che si chiama Arancia Ovviamente L'arancia È bianca Adesso Perché di solito I materiali Appena li creiamo Sono bianchi Quindi L'arancia È di colore Arancione Ovviamente Quindi clicchiamo Su Base Color E gli diamo Un colore Arancione Qui diciamo Sta a voi Capire che tipo Di arancione Volete scegliere In base a quanto È matura La vostra arancia E poi Possiamo notare Che questa arancia È troppo ruvida Di solito Le arance Sono abbastanza Riflettenti Quindi abbassiamo Il valore Roughness Adesso un pochino Ed ecco qua Che abbiamo Un'arancia Super Noiosa Perché non c'è Nessun tipo Di dettaglio È tutta uniforme Però noi abbiamo Appena imparato Che esistono Delle texture Che si chiamano Procedurali Che possiamo Usare Subito Per rendere Questa arancia Un po' più interessante Allora Innanzitutto Le arance Di solito Non sono Come un po' Tutti gli oggetti Che esistono Non sono mai Uniformemente Colorate Quindi non esistono Arance Che sono Perfettamente Arancioni Dello stesso colore Per dare un po' Di varietà A questo arancione Creiamo Con shift A Una texture Che Sarà Di nuovo La noise Texture Control Shift Click Vediamo Cosa sta facendo La texture E come abbiamo Fatto prima Shift A Converte Color ramp Per aumentare Un po' Il contrasto La cosa bella Della color ramp È che possiamo Usarla non solo Per aumentare Il contrasto Ma anche Per colorare La nostra arancia Per esempio Se noi mettiamo Il mouse Sopra A base color E facciamo Control C Senza cliccare Solo control C Andiamo su Color ramp Mettiamo il mouse Sopra Al bianco Selezioniamo Lo slider del bianco Mettiamo il mouse Qui sopra Facciamo Control V Abbiamo copiato Questo colore E lo abbiamo Messo Sulla color ramp Quindi tutto ciò Che questa texture Faceva Ed era bianco Adesso è diventato Arancione E tutto ciò Che è nero Se clicchiamo Se clicchiamo Sul nero Aumentiamo Il colore Qui Ci possiamo Scegliere Un altro colore Per esempio Un qualcosa Di più rosso Ecco qua E adesso Tutto ciò Che era Nero Diventa Rossasto Tutto ciò Che era bianco Diventa Arancione Ora Sicuramente Quest'arancia Ha un po' Troppe Macchie Di colore Diverso Però Noi possiamo Divertirci Con questi Parametri E cercare Di fare Un qualcosa Che sia Un po' Più Verosimile Quindi Se prendiamo La scale Per esempio E la Rimpiccioliamo Le macchie Diventano Più Grandi E meno Numerose E Vedete Andiamo a trovare Qualcosa Che sembra Un po' Più Diciamo Verosimile Anche qui Possiamo aumentare Il dettaglio Così La nostra texture Viene un po' Più Dettagliata E volendo Possiamo anche Aumentare La roughness Che non è Da non confondere Con questa roughness Lo so Il nome è lo stesso Ma quello che fanno È diverso E vedete Come viene Un risultato Molto più Interessante Ora Ora se noi Facciamo Control Shift E clicchiamo Principal BSDF Ci ricollega Il materiale Che avevamo All'output Del materiale Non è cambiato nulla Perché questo Non è ancora collegato Però se noi adesso Andiamo a collegare La texture Che abbiamo creato Con il base color Vi diamo un po' Di tempo Per pensarci Ecco qua Ora possiamo Vedere che con il materiale Applicato Magari è un po' Troppo scura Quindi possiamo Aumentare Un po' La luminosità Dei nostri colori Andando qui E aumentando un po' Ecco qua L'intensità E a me Sembra Un buon inizio Ora La parte più importante Di un'arancia Secondo me I puntini Diciamo I buchi Dell'arancia L'effetto Buccia d'arancia Per creare L'effetto Buccia d'arancia Andremo ad usare Un nodo Che non abbiamo Ancora mai usato Ma che è molto simile Al bump Che vi ho fatto vedere Altre volte Questo nodo Si chiama Con shift A Andiamo su Vector E si chiama Displacement Creiamo il nodo Che si chiama Displacement Che ancora non attaccheremo Da nessuna parte Poi vi spiego Quando andrà attaccato E perché E intanto Capiamo Come creare I puntini Dell'arancia Per farlo Usiamo Una texture procedurale Allora Intanto vi avverto Che Questo materiale Diventerà Un po' Incasinato Quindi cerchiamo Di crearci Spazio Dove Potrebbe servirci In questo caso Facciamo così Ok Allora Per creare L'effetto Puntinato Dell'arancia Usiamo Questa texture Procedurale Che si chiama Voronoi Quella che vi ho fatto Vedere prima Facciamo shift A Texture Voronoi Texture Per Per aiutarci Per aiutarci Facciamo Control shift Click E vediamo Cosa sta facendo La nostra Voronoi Texture Shift A Converter Color ramp Così che aumentiamo Il contrasto E vediamo Un po' Meglio E possiamo Vedere Che questa texture È puntinata Ma ci sono anche Delle linee Che non so se si vedono Dal video Ma Non ci servono Allora Innanzitutto Sicuramente Questi puntini Sono troppo grossi Quindi come al solito Andiamo su scale E aumentiamo Il numero Di puntini E rimpiccioliamo Di conseguenza La grandezza Di puntini Poi intanto Vi consiglio Di andare Sulle impostazioni Di render Qui E al posto Di EV Selezionare Cycles Io metto In device GPU Perché la mia GPU È meglio Del mio Processore Detto ciò Torniamo qui Alla nostra Voronoi texture E possiamo Vedere Oh scusate Control shift Clicco la color ramp Possiamo vedere Che qui Oltre agli slider Ci sono Altre impostazioni Per esempio Questa Che adesso Non ci interessa Questa qui F1 Che ci fa vedere Che ci sono Altri tipi Di Voronoi Se noi Clicchiamo Su F2 Su smooth Su distance Ci sono dei tipi Diversi Nel nodo stesso Quindi anche questa È una cosa Che vi consiglio Di sperimentare E per esempio In questo caso Noi sappiamo Che ci serve Smooth F1 Non è che sappiamo Ma semplicemente Provandole tutte Possiamo vedere Che sicuramente È la texture Che più si avvicina Al risultato Che vogliamo Perché questa Andrebbe anche bene Ma ci dà Queste linee Qui in mezzo Che non ci servono Mentre se mettiamo Smooth F1 Vediamo che Ci lascia solo I puntini E poi Qui sotto Una volta che abbiamo Cliccato Smooth F1 Si crea Un altro Slot Dove possiamo Scegliere Altre modalità Per esempio Se facciamo Manhattan C'è questo effetto Stellato Se facciamo Cebic Ci dà Quest'altra cosa Se facciamo Minkowski Ce dà Un'altra ancora In questo caso A noi ci serve Euclidean Perché ci piace L'effetto Puntinato E adesso che abbiamo La nostra Dexture Io gli andrei A sistemare Un po' Questi pallini Per diciamo Diminuire La grandezza Dei pallini Usiamo La nostra Color Ramp Vedete Se abbasso il nero I pallini Diventano più piccoli Se aumento Il bianco Vediamo solo I pallini Sostanzialmente Tutto il resto È bianco E direi Di provare Qualcosa In questo modo Come vi ho spiegato Nel tutorial precedente Quando abbiamo Una texture Bianco e nero In bianco e nero Possiamo usare Questa informazione Per esempio Sul bump Ovvero Per dire al programma Che una cosa nera Viene spinta Verso il basso E che una cosa bianca Viene spinta Verso l'alto Possiamo fare Sostanzialmente La stessa cosa Con un displacement Il displacement È l'equivalente Del bump Ma come vi ho spiegato Il bump Non cambia Effettivamente L'oggetto Ma dà solo L'impressione Che l'oggetto Venga cambiato Mentre il displacement Cambia proprio L'oggetto Quindi cambia Il modo in cui Sono messi i poligoni Quindi noi Andiamo ad attaccare Displacement A la sezione Displacement E poi La color ramp La andiamo A mettere Su Height Ora Se noi facciamo Control shift Clicchiamo sul materiale Possiamo vedere Cosa sta succedendo Sicuramente Un casino Esatto Però vediamo Che sicuramente Qualcosa sta succedendo Intanto Possiamo prendere Il parametro Scale Che è più o meno L'equivalente Dell'intensità Del displacement E abbassarlo Quindi premo Shift Trascino Verso sinistra E lo metto Veramente Al minimo Che posso Ecco 0,01 Vediamo Che la situazione Ancora non è migliorata Quindi andiamo Su color ramp Prendiamo Il nero Lo aumentiamo Un po' Di intensità Ok E prendiamo Il bianco E siccome Noi non vogliamo Che l'arancia Venga spinta Verso l'alto Ma vogliamo Che venga spinta Solo verso il basso Dove c'è il nero Il bianco Deve essere abbassato A un valore Di 0,5 Perché Come vi ho spiegato L'altra volta Se il bianco È 0,5 0,5 È Il punto di partenza Da cui stiamo Quindi noi vogliamo Che il bianco Equivalga Al punto di partenza Della nostra geometria E quindi Che da lì Si vada solo A spingere Verso il basso Posso vedere Da qui Che la nostra Color ramp Ha troppo contrasto Quindi andiamo A spingere Lo slider Più Verso Destra E vediamo Che la situazione Sta migliorando Ok Quindi siamo arrivati A questo punto Sicuramente È ancora troppo Possiamo abbassare Ancora di più La scale Quindi mettiamo Un altro 0 Qui Ok Ci stiamo avvicinando Un po' di più E possiamo giocare Con il contrasto Della color ramp Finché diciamo Non vi sembra giusto Possiamo anche aumentare La scala Della texture Per farlo un po' più Puntinato Cambiando I valori Della color ramp Possiamo cambiare L'intensità Del displacement Ed ecco qua La nostra Buccia D'arancia Ah Un'altra cosa Che non abbiamo fatto Sul nostro modello Se adesso torniamo Di nuovo Qui al layout È aggiungere Il sotto Dell'arancia Vedete Questo succede Quando Uno non ha Un'arancia Davanti agli occhi Si può dimenticare Delle cose Quindi sistemiamo Un attimo Il modello Torniamo in Edit mode Andiamo Qui sotto E direi Di prendere Questa serie Di lati Quindi con alt Click Fare ctrl B Qui Poi Fare alt Click Selezionare Questa fascia Interna Fare GG Ci portiamo Questo Questi lati Qui sotto Per fare Un piccolo Cerchio Ora creiamo Con ctrl R Un'altra serie Di lati Che li portiamo Vicinissimi A quelli Nuovi Che abbiamo Creato Qui sotto Facciamo Alt Click Selezioniamo Questi Shift Click Selezioniamo Questo E adesso Facciamo Uno del Tasterino Numerico Ci mettiamo Di profilo Zoomiamo Qui sotto E Z S Z Zero E poi Aggiungiamo Con ctrl R Dei lati Di supporto Sia Qui Che Qui Ecco Fatto E abbiamo Aggiunto Il piccolo Pallino Nero Aggiungo Un altro Lato Qua Per dare Una mano Il piccolo Ciccetto Che sta sotto Le arance Quindi Torniamo Di nuovo In modalità Shading Eccoci qua Vediamo qui Il pallino Che abbiamo Aggiunto E abbiamo Abbiamo fatto L'effetto Buccia D'arancia Qui Nonostante Voi Vediate Che il numero Ha soltanto Tre decimali Quindi 001 Se noi Volessimo Andare Più in basso Di così In realtà Noi possiamo Scriverlo Qui dentro Il numero Quindi Se facciamo Mettiamo Un altro Zero E qui Ci mettiamo Cinque Lui lo Approssima Per 01 Ma in realtà Vedete Lo ha Cambiato In 0,0005 Quindi se noi Andiamo a Ricliccare qua Vediamo Che il numero In realtà È corretto Quindi siccome Per me Era un po' Troppo Come era Prima L'ho messo 0,0005 E mi sembra Il numero Perfetto Ora Che abbiamo Fatto I nostri Bozzetti Possiamo Continuare A sistemare Il nostro Materiale Per esempio Direi Di andare A toccare La roughness Per controllare La roughness Mettiamo Un'altra Texture Procedurale Con shift A Texture Noise Texture Un'altra Noise Texture Control Shift Click Vediamo Che cosa Sta facendo Questa Texture Indovinate Un po' Cosa faremo Adesso Shift A Converter Color Ramp Mettiamo La color Ramp Qui E attacchiamo La color Ramp Alla Roughness Control Shift Click Vediamo Cosa sta Succedendo Al nostro Materiale Ci metto Un po' Adesso Perché Ok Se vedete Quando Giriamo Ci sono Dei punti Un po' Più Lucidi Dei punti Un po' Meno Lucidi Se aumento Il contrasto Della color Ramp Si vede Meglio Ok Direi Che è Già Molto Più Interessante Control Shift Click Sulla Color Ramp Vediamo Cosa sta Succedendo Allora Direi di Aumentare Il contrasto Così Un po' Più Bianco Un po' Più Nero Migliorare Questa Texture Quindi Aumentiamo Il dettaglio Aumentiamo La roughness Ok Magari Aumentiamo Diminuiamo Anche La scala Così Che ci sono Meno Macchie E vediamo Control Shift Click Sul materiale Che cosa Sta succedendo Ok Mi sembra Qualcosa Di molto Più Realistico Adesso Magari Abbassiamo Un po' Il bianco Perché È troppo Opaca Così Com'è Quindi Andiamo A selezionare Il bianco E Lo abbassiamo Un pochino Così diventa Un po' Più lucida In generale Forse L'ha abbassato Troppo Quindi L'ammentiamo Di nuovo Un altro po' Ecco qua E forse Aumentiamo Anche Il nero Perché È troppo Lucida Dove È nera Quindi L'ammentiamo Un pochino Così Ok Perfetto Allora Adesso Cominciamo Ad aggiungere Altri dettagli La cosa bella Di aver messo Il displacement Qui È che noi Ci siamo lasciati Liberi Il posto Per una Bump map Quindi Oltre a questi Puntini Noi possiamo Aggiungere Un ulteriore Livello Di dettaglio Con un bump Quindi facciamo Shift Shift A Andiamo Su Vector Ci prendiamo Il bump Colleghiamo L'uscita Normal All'entrata Normal Del materiale E Indovinate un po' Creiamo una nuova Texture Procedurale Con Shift A Texture Noise Texture Questo In questo caso Useremo una Noise Texture Per controllare Il bump Di questa Arancia Per fare ciò Facciamo Ctrl Shift Click Vediamo cosa sta Succedendo Al nostro Noise Facciamo Shift A Converter Color Ramp Per aumentare Il contrasto E avere più controllo Successivamente Su cosa stiamo facendo Aumentiamo La scala Del nostro Noise Perché io voglio andare A creare L'effetto Irregolare Della superficie Dell'arancia Adesso vi faccio Vedere subito Aumentiamo anche Il dettaglio Ok E poi Io so Che Il nero Della bump Controlla Quanto viene spinto In basso Il bianco Controlla Quanto viene spinto In alto E so Che non voglio Spingere Né troppo In basso Né troppo In alto La mia Arancia Quindi Vado a prendere Il nero E lo alzo Un po' Qui Ho Il valore Del colore Che ho Selezionato Che allo stesso Tempo Equivale A quanto Viene spinto In basso In alto Il nostro oggetto Quindi abbiamo detto Che 0,5 È il valore centrale Il valore medio Il valore di partenza Dell'oggetto Quindi noi vogliamo Che venga spinto Un po' in basso Quindi dobbiamo stare Un po' sotto 0,5 E vogliamo che venga Spinto un po' in alto Quindi vogliamo stare Un po' sopra 0,5 Quindi andiamo qui Andiamo 0,6 E in basso Era 0,3 Quindi colleghiamo La color ramp A height Del bump Control shift Click Vediamo che cosa Sta succedendo Ecco qua Ovviamente Troppo forte Quindi andiamo Ad abbassare Distance Anche qui Al minimo Che possiamo Direi Già Che lo sappiamo Quindi facciamo 0,001 Ok Oppure facciamo 0,01 E diminuiamo Anche la strength Finchè non troviamo Un risultato Che ci possa piacere Ok E possiamo Continuare a Sbizzarrirci Con la texture Quindi se vogliamo Farla ancora più Abbozzata Aumentiamo La scala Possiamo diminuire O aumentare Il livello Di dettaglio E anche Il livello Di roughness Finchè non troviamo Qualcosa Che ci può piacere Allora Adesso sto notando Che con questo Nuovo Bump Ci siamo Un po' persi L'effetto Bucato Del displacement Quindi torniamo Qui al displacement Andiamo su scale Invece che 0,5 Li rimettiamo 1 Forse Il bump È un po' Troppo In questo momento Quindi torniamo Qua Lo abbassiamo Ancora di più Magari mettiamo 0,0,5 Ok E forse C'è un po' Troppa roughness Quindi andrei a diminuire Un po' Diciamo che Questo qui è un processo Molto avanti e indietro Cioè Facciamo una cosa Poi dobbiamo andare A modificare cose Che abbiamo fatto In precedenza Perché è tutto Un lavoro Di rifinimento Quindi anche qua Per esempio Secondo me È troppo lucida Quindi torniamo Sulla roughness Prendiamo il nero Lo aumentiamo Un po' Ok Poi magari Vogliamo scurire Un po' Il colore Quindi torniamo Qui sul colore Lo selezioniamo Abbassiamo Abbassiamo un po' Ok Magari prendiamo Anche questo Lo abbassiamo Un po' Ok Ora cominciamo A fare cose Un po' Più avanzate Spero che fino a qui Ci siamo Capiti E che non sia Troppo complicato Però adesso Possiamo cominciare A far influenzare Le cose A vicenda Che intendo Per esempio Se noi vogliamo Fare in modo Che Dove l'arancia È bucherellata La roughness Sia Più o meno Lucida Possiamo prendere La texture Incriminata Quindi Lavoro noi Texture Che è attaccata Al displacement Ce l'avviciniamo Un po' Più in qua Verso la roughness Ci portiamo La roughness Via Qui Ok E cominciamo A fare un po' Di spazio Quindi Non Cercate di non fare Questo Quello che sta succedendo Ovvero il collegamento Passa attraverso Il nodo Perché Può essere confusionario Perché se io L'avessi così Potrebbe sembrare Che questo Nodo Sta entrando In questo Materiale Ma in realtà Non è così Quindi Per sistemare un po' Il nostro shader editor Possiamo fare Shift Tasto destro E trascinare E lui ci creerà Questo pallino Questo pallino Se facciamo G Lo possiamo Spostare E possiamo Farlo un'altra volta Shift Tasto destro Trascino Creiamo un altro pallino Facciamo G E ce lo portiamo Qua Forse è un buon momento Per parlare Di come funzionano I nodi Per bene Ovvero il node editor Come avrete capito Ormai Funziona Da sinistra Verso destra Quindi noi Abbiamo una cosa Che è quella di partenza La inseriamo In un'altra cosa Che sta più a destra Che poi verrà inserita In qualche altra cosa E alla fine Abbiamo il risultato Di quello che stiamo facendo Quindi è molto importante Capire I collegamenti Se non siete sicuri Di cosa sta succedendo Voi Seguite tutte le linee Che si collegano E tornate alla radice Del problema Quindi detto questo Noi abbiamo La texture Roughness La texture Del displacement E vogliamo Fare in modo Che una influenzi L'altra Come facciamo A farlo? Allora Facciamo Shift A Andiamo Su Color E ci prendiamo Questo nodo MixRGB MixRGB È un nodo Fatto per Mischiare Due texture Due colori RGB Sono i colori E infatti Qua vediamo Che ha Un input Di un colore E un input Di un altro colore Ora noi possiamo Mettere Nell'input Del primo colore La texture Della roughness E nell'input Del secondo colore La texture Del displacement Ora queste due texture Se noi facciamo Ctrl Shift Click Vengono mischiate Tra di loro Quindi se io ho questa E ho questa Le mischio Tra di loro Viene questo Qui c'è uno slider Che ci dice Quanto vogliamo Mischiarle In questo momento Sono mischiate Al 50% Quindi il 50% Di questa immagine È questa Il 50% E l'altro 50% È quest'altra Quindi se noi muoviamo Questo a 0 Vedremo solo La roughness Se muoviamo questa a 1 Vedremo solo Il displacement Se lo mettiamo a 0.5 Li vediamo entrambi mischiati Ora qua sopra Ci sono Dei blending mode Cioè dei modi In cui queste immagini Vengono mischiate A noi Qui possiamo provarli tutti E vedere cosa succede Saremo qua fino a domani Se li mischiamo Vediamo che ogni metodo Fa qualcosa di diverso Il metodo Che ci interessa a noi Però È Multiply Qui ci sarebbe Un po' di matematica Da spiegare Perché Multiply In realtà Moltiplica I valori Della texture Quindi noi Prendiamo la texture Di partenza E sopra Gli moltiplichiamo Proprio letteralmente Come una funzione Matematica I valori Della seconda texture Che abbiamo Se spostiamo questo FAC Al valore 1 La moltiplicazione Avviene al 100% Che vuol dire questo? Vuol dire che Se noi Se la prima Se la nostra immagine Di partenza Ha dei pixel Bianchi E come vi ho spiegato Il pixel bianco Vale 1 Ma la nostra Immagine di arrivo In quello stesso punto Ha dei pixel neri Avviene una moltiplicazione Cioè Pixel bianco Equivalente a 1 Si moltiplica Per pixel nero Equivalente a 0 E il risultato Della moltiplicazione È 0 Perché 1 per 0 Fa 0 Quindi noi stiamo Semplicemente dicendo A Blender Prendimi la roughness E dove Questa texture qui È nera Trasformami la roughness In nero Quindi noi Questi puntini Che abbiamo qua Li troveremo Anche Adesso Nella roughness Quindi avremmo preso La texture roughness E gli abbiamo Moltiplicato sopra La texture displacement Ora Se vogliamo Migliorare un po' Il risultato Prendiamo un altro Shift A Converter Color ramp Lo mettiamo qui Ctrl Shift Click Vediamo cosa sta succedendo Aumentiamo un po' Il contrasto Di questa texture Quindi aumentiamo I bianchi Per fare in modo Che ci rimangono Soltanto i puntini neri Ok Vediamo cosa sta succedendo Nella moltiplicazione Guardate un po' Texture roughness Texture modificata Del displacement Ctrl Shift Click Li moltipliciamo Insieme Abbiamo Roughness Displacement E adesso abbiamo Il displacement Sopra la roughness Che è esattamente Quello che vogliamo Ora Io che ho aggiunto Questo color ramp Non l'ho aggiunto Al displacement Qui giù Perché questa Modifica che fa Questa color ramp È una cosa che mi serve Solo Per questa Moltiplicazione Qua Ma non mi serve Per il risultato Di cui ero contento Qui giù Quindi mi raccomando Fate in modo Che qui Ci siano Due Sdoppiature E adesso Se noi andiamo Ad attaccare Questo nodo Alla roughness Vediamo Che cosa succede Ctrl Shift Click Non sembra Sia cambiato Qualcosa Ma in realtà Se andate a vedere Dentro A questi punti È più lucido Di come era prima Se noi vogliamo Disabilitare Questo nodo Quindi vedere Soltanto Come era prima Diciamo Possiamo cliccarlo Fare M Per mutarlo E vedete Mi crea Questa linea rossa Che simula Che questa linea Da qui Va direttamente All'uscita E se guardiamo Questo punto Per esempio Vedete Com'è la roughness Questa roughness È uguale a questa roughness Più o meno Se noi adesso Riselezioniamo questo E facciamo M Vedete che adesso È più lucido Sono dettagli Minimi Però Conviene Saperle Queste cose Spero di essere Stato chiaro Con questa cosa Del multiply Perché Io la ritengo Una funzione Incredibile Che viene usata In continuazione E che è importante Anche se non vi interessa La matematica È importante Capire Che cosa sta succedendo Dietro le quinte Perché vi aiuta Proprio ad immaginarvela Come cosa Quindi ricordatevi Siccome le texture Sono un insieme Di numeri Di 0 e 1 Le texture in bianco e nero Valgono 0 e 1 Se noi le moltiplichiamo 1 per 0 Fa 0 1 per 1 Fa 1 Quindi bianco Su bianco È uguale a bianco Bianco Su nero È uguale a nero Ora Io ancora Non sono convinto Della lucentezza Di questa arancia Quindi Proviamo a dargli Un po' più Di ruvidità Ok E soprattutto Non sono convinto Con la grandezza Dei buchi Che gli abbiamo dato Quindi magari Torniamo qui Al voronoi Aumentiamo La dimensione Ma aumentiamo Anche il contrasto Ok Se aumentiamo La dimensione Diminuiamo Il contrasto In realtà Già Mi piace Un po' Di più Diamo anche Un materiale Al picciolo Quindi Lo selezioniamo Facciamo New Picciolo Ok E in realtà Dobbiamo fare La stessa cosa Però In questo caso La faremo Molto più Rapidamente Senza soffermarci Troppo nei dettagli Perché se volete Perderci tempo Innanzitutto Potete sistemare Il modello Del picciolo Perché io l'ho fatto Molto stilizzato Se volete Di nuovo Prendete un'arancia Guardate bene Com'è fatta E cercate di replicare Il picciolo Al meglio che potete Ma in questo caso Appunto So che ha un colore Verdastro Poco saturato Diciamo così Non vogliamo Che il colore Sia uniforme Quindi come abbiamo Fatto prima Facciamo Shift A Texture Noise Texture Shift A Converter Color Ramp Mettiamo qui Poi facciamo Control C Sul colore Che gli abbiamo dato Lo mettiamo Sul bianco Control V Attacchiamo La color ramp Al base color E vedete Si stanno creando Delle variazioni Possiamo Dare un colore Al nero Qualcosa Di giallastro Ho praticamente Preso lo stesso colore Che c'era già Possiamo aumentare Il contrasto Per rendere Più palese La differenza Io farei addirittura Più chiaro E meno Saturo Così Meno scuro Questo E possiamo fare Più grande Il noise Ok Controlliamo La roughness Shift A Texture Noise Texture Shift A Converter Color Ramp Prendiamo questo Lo mettiamo Nella roughness Così Diamo un po' Di variazioni Di lucidità So che non lo voglio Nero Quindi alziamo Un po' Qui Control Shift Click Vediamo che cosa Sta succedendo Aumentiamo il contrasto Magari Aumentiamo La roughness Control Shift Click Ok E adesso Gli diamo Un po' Più di bozzosità Facendo Shift A Converter No Shift A Vector Bump Normal Subnormal Shift A Texture Noise Texture Indovinate un po' Shift A Converter Color Ramp Mettiamo FAC Nel FAC Color Nel Height Normal Normal è eccessivamente Forte Quindi intanto Vediamo qua che cosa sta succedendo Control Shift Click Aumentiamo la scala Diminuiamo il contrasto Quindi Questo che da 0 Lo avviciniamo a 0,5 E questo che da 1 Lo avviciniamo a 0,5 Vediamo che cosa sta succedendo adesso Ok È sicuramente ancora troppo forte Diminuiamo Distance E diminuiamo Strength E possiamo anche Forse diminuire la grandezza Ok E i colori Li possiamo Scurire un pochino Ok Diciamo qualcosa Di questo tipo Dopodiché Non ci dimentichiamo Che abbiamo Preso Abbiamo fatto Questo ciccetto Prima Questo ciccetto Ha un colore Marroncino Se non sbaglio Quindi Andiamo a selezionare L'arancio Andiamo nella sezione Materiali Creiamo un nuovo materiale Con il più E lo chiamiamo Ciccetto Questo materiale Ciccetto Andiamo in Edit Mode Selezioniamo Il vertice qui sotto E poi facciamo Control E Tasto più Del tastierino numerico Così la selezione si espande Lo facciamo un'altra volta Schiaccio il tasto virgola Del tastierino numerico Per avvicinarmi un po' Vediamo che ci manca Ancora Un lato Quindi facciamo Un'altra volta Control Più Ok Ci siamo E facciamo Assign Quindi assegna E adesso E adesso Vediamo che il ciccetto È bianco Perché gli abbiamo Assegnato il materiale ciccetto Ora senza fare cose troppo complicate Io direi semplicemente di dargli un colore Scuro sicuramente E verso il marrone E di dargli una bella ruvidità Perché sicuramente è molto ruvida Ecco qua Niente male Salviamo Cosa importantissima Control S E adesso Cominciamo a ragionare Su come Procedere Per fare Un Cesto di arance Adesso che abbiamo un'arancia Che ci piace Dobbiamo pensare Che questa arancia Verrà moltiplicata Diverse volte Allora Se noi andiamo a moltiplicare Un'arancia Ovviamente Allora Innanzitutto Per aiutarci Io consiglio Di unire Il picciolo All'arancia Selezioniamo il picciolo Facciamo shift Selezioniamo l'arancia Facciamo control j E le uniamo In un unico oggetto Dicevo Se adesso Moltiplichiamo Questa arancia Facendo shift d La duplichiamo Vediamo che queste arance Sono identiche Quindi Quindi per aggiungere Un po' di variazione Io farei una bella cosa Cancelliamo Questa arancia Selezioniamo L'arancia iniziale E facciamo Andiamo qui Nella sezione Modifier Ora Nella sezione Modifier C'è un modifier Che avrà un nome Familiare Perché se facciamo Add modifier Creiamo un modifier Che si chiama Displacement Qua Se lo premiamo Ci accorgiamo Che la nostra arancia È esplosa Perché è esplosa Perché come vi ho spiegato Prima Nella sezione Materiali Il displacement Cambia Effettivamente Il modo in cui I vertici Sono messi Nella geometria Ora Se scherciamo New Vediamo che L'arancia Esploderà In un modo Diverso ancora Questo Modifier Displacement Prende Una texture E la utilizza Per modificare I vertici Del nostro oggetto Qual è il problema? Non sappiamo Che texture Sta usando Per vedere Che texture Sta usando Noi clicchiamo Questo simbolino Qui E lui ci porta Alla sezione Texture Del displacement Di default Il tipo Di texture Selezionato È immagine O movie Quindi Noi clicchiamo Qui E ci andiamo A prendere Un'altra Texture Procedurale Ovvero La texture Clouds Che Indovinate Un po' È uguale Al noise Che usavamo Prima Dunque Questa Non è Proprio Una bella Arancia Per ora Però Se noi Torniamo Indietro Alla sezione Modifier E Diminuiamo La strength Del displacement Ci andiamo A riavvicinare Alla forma Che avevamo Prima Adesso ovviamente La strength Sta a 0 Quindi Il displacement Non sta facendo niente Ma se lo andiamo a aumentare Un pochino Ok Lo mettiamo magari 0,03 E vediamo Che però Questo displacement Sta Modificando Anche Il nostro picciolo Ma non è quello Che vogliamo noi Come facciamo A non far Modificare Il picciolo Al displacement Allora Qui abbiamo Una sezione Che si chiama Vertex Group Ovvero Gruppo Di vertici Noi possiamo Dire A molti Modificatori Di Applicarsi Soltanto A una selezione Di vertici Che gli diciamo Noi Quindi noi Andiamo a dire Al modificatore Guarda Tu devi applicare Questo effetto Soltanto A questi Vertici Qui Come facciamo A creare Un vertex Group Allora Innanzitutto Andiamo Qui Nella sezione Vertex Groups Vedete Andiamo in Edit Mode Noi selezioniamo L'arancia Premendo L Mettiamo il mouse Sopra l'arancia Premiamo L E lui ce lo seleziona Creiamo un nuovo Vertex Group Che chiamiamo Displacement E gli Assegniamo I vertici Che abbiamo Selezionato Se adesso Torniamo Al displacement E andiamo Su vertex Group E diciamo E Fammi il displacement Solo Sull'arancia Perché è quella Che abbiamo Selezionato E infatti Vediamo che il picciolo È tornato Normale Ovviamente Direi di farlo Abbastanza piccolo Questi Sono Degli aranci Mutanti Ma perché Ovviamente L'effetto Del displacement È troppo Forte Quindi Torniamo Sul displacement Diminuiamo Diminuiamo La forza Del displacement Magari Mettiamo Un altro Zero Qui davanti Ok Vediamo un po' Che cosa succede Se io Lo tolgo E lo rimetto Vedete Se schiaccio Quest'icona Del monitor Disattivo Il modificatore Se la rischiaccio Lo attivo Non è tanto Ma Vedete Che c'è un po' Di differenza Allora Perché questo Ci fa comodo Perché Se noi Andiamo di nuovo Qui sulla sezione Modifier E analizziamo Un attimo Il displacement Vediamo Che ci sono Due parametri Qui da controllare Le coordinate Della texture Che stiamo usando E la direzione In cui Viene spinta La geometria In questo caso La sezione Direction Non ci interessa Perché è giusta Così com'è Ma ci interessano Le coordinate Le coordinate Sono messe Automaticamente Sul local Che vuol dire Che indipendentemente Dal punto In cui si trova L'arancio Sarà sempre Spinto Nello stesso modo Se guardate Per darvi la prova Che questa cosa Avviene Direttamente Sulla geometria E non sul materiale Se noi andiamo Nella modalità Viewport normale Potete vedere Che se io Attivo e disattivo Il modifier È proprio La geometria Che viene spostata Ora se andiamo In edit mode La geometria È intatta Ma perché Il modifier Non è stato applicato Ma se Andiamo In object mode Vedete proprio Che è la geometria Torniamo In modalità Shading Questa qui Di standard Le coordinate Sono locali Quindi locali Per l'oggetto Nel senso che Indipendentemente Da dove l'oggetto È nel mondo Viene applicata Alla stessa Distorsione Se noi invece Cambiamo questo parametro Da locale A globale A seconda di dove Si trova l'oggetto Aspettate Metto di nuovo La modalità viewport Così forse Si capisce meglio A seconda di dove Si trovi l'oggetto Cambia il displacement Che viene fatto Adesso per farvi vedere Ancora meglio Aumento L'intensità Guardate Se io lo muovo Vedete Che vuol dire questo Se adesso Rimetto l'intensità Giusta Che vuol dire questo Che se io Metto le coordinate Su global Faccio una copia Di questo oggetto Facendo Shift D X Anche se In maniera Impercettibile La copia Che viene fatta Sarà Diversa Dal precedente Perché ognuno Anche se in maniera Impercettibile È leggermente Diverso Ha un displacement Leggermente diverso Rispetto a quello Di prima Ora cancelliamo Queste copie Che abbiamo fatto Perché non abbiamo Ancora finito E cominciamo a pensare A come creare Questo cesto Per le arance Ancora finito